Weee! Non fare il barbone! Da oggi puoi supportarmi nello shop con il mio codice CREATOR! Clicca in basso a destra sul tasto supporto a un creatore ed inserisci XIODERONE! DAIE! Weee! Bella a tutti ragazzi e benvenuti ad un mio nuovo video! Io sono XIODER e ragazzi la patch 9.30.3 è arrivata alle mie spalle senza indugiare andiamo subito a vederci il trailer della nuova granata aerea. Nooooooo! Che devasto! È la prima volta che lo vedo anch'io ragazzi! È la prima volta che lo vedo anch'io ed è assolutamente incredibile ragazzi! Nuova granata aerea che come vi avevo già annunciato appunto porta un attacco verticale direttamente alle basi nemiche! Ma non è l'unica introduzione in questa patch 9.30 ragazzi perché ci sono anche le rotazioni della modalità a tempo. Avremo l'esplosivi ad alto potenziale in squad, la modalità silenziatori infidi nella modalità singolo, la classica a squad, oro massiccio, la modalità prendi. In questa modalità sono state rimosse tutte le armi da fuoco, le uniche armi disponibili sono le granate e gli oggetti da lancio. Ma per quanto riguarda invece ragazzi le armi e gli oggetti ovviamente parliamo dell'attacco aereo. Una bomboletta di fumo colorato che fa piombare una salva di missili dall'alto. Pochi secondi dopo che la bomboletta si è fermata vengono generati i missili e i missili si generano circa 120 metri sopra il punto da colpire. Sono diretti verso i punti casuali ovviamente e dentro un raggio di 9 metri dall'oggetto lanciato. 20 missili in totale e ciascun missile ragazzi ha un raggio di esplosione di 3,5 metri. Davvero davvero potentissima. Se ne può trovare una alla volta, se ne possono tenere due alla volta ed è un'arma leggendaria. Per quanto riguarda invece ragazzi la modalità creativa arriva, eccola, no ho sbagliato, per la modalità creativa arriva ragazzi. I nuovi prefabbricati e le nuove gallerie. Aggiunte 4 nuove gallerie, la galleria auto B con più varianti di colore per le auto, una galleria pavimento neve e fango, erba e sabbia e pavimento lava. Ma poi andiamo avanti ragazzi perché siamo su Save the World dove si vede il deatomizzatore 90.000. Non fidarti degli atomi, farebbero qualsiasi cosa. Questa probabilmente è una nuova arma disponibile nel negozio di Save the World. Andiamo avanti anche con i minigiochi, il doppio colpo ragazzi, un distruttore, due distruttori, un distruttore invulnerabile, un distruttore modificato ragazzi. Nuovo minigame anche per quanto riguarda Save the World, nuove missioni e come vi avevo già anticipato il deatomizzatore 90.000. Si hanno anche deciso di risolvere un bel po' di problemi relativi soprattutto ai cali di FPS con alcune animazioni e quindi ragazzi, quella che sarebbe la patch 9.30 versione 3 non è altro che l'introduzione di questo nuovo attacco aereo. La patch vera e propria la vedremo il 14 luglio e si chiamerà 9.4. Io vi ringrazio tantissimo per aver guardato questo video, un bel pollicione in su, iscrivetevi al canale, noi ci vediamo alle 15 con il Fortbyte, ciao!